È stata la foschia tra dire due uomini che erano a bordo dell'ultraleggero schiantatosi in un campo vicino alla cascina Breda dei Bugni sul territorio di Castelverde, non lontano dal Migliaro. Erano le 13.30 del 29 gennaio di due anni fa e Gianluca Petranca, di 67 anni, alla cloche del velivolo, si è trovato, accanto al passeggero Valeriano Zoppetti, 63enne, a tentare l'atterraggio in condizioni di scarsa visibilità causata dalla foschia. La conclusione è stata tragica. I due uomini, entrambi imprenditori e lodigiani, rispettivamente di San Rocco al Porto e di Castiglione e Dadda, hanno perso la vita sul colpo. Si è pensato a un guasto o un malore, ma la perizia richiesta dalla Procura di Repubblica di Cremona ha individuato la causa nella foschia. Tecnicamente comporta visibilità limitata fra i 1.000 e 10.000 metri, mentre si parla di nebbia soltanto quando si può vedere al di sotto dei 1.000 metri di distanza. Il gruppo di esperti, coavvocato dalla Procura, ha esaminato le condizioni dell'aereo. Uno Sea Leader 600 di proprietà di Gianluigi Petranca, il motore, gli strumenti usati, ha valutato il meteo di quel giorno e ha concluso che l'incidente è stato causato da nient'altro che dalla scarsa visibilità, che ha costretto il pilota ad assumere delle posizioni insolite a bassa quota. L'aereo non era più governabile e lo schianto non è stato più evitabile. Prima di tentare l'atterraggio, il pilota ha compiuto una virata sinistra di ben 270 gradi, secondo le ricostruzioni, prendendo angoli sempre maggiori nel tentativo di avvicinarsi a terra finché la velocità dell'aereo è talmente diminuita che è diventato impossibile rimanere in quota. Il velivolo è precipitato senza strisciare sul terreno e senza che alcuna parte del motore subisse cedimenti strutturali. L'ultimo volo di due imprenditori lodigiani era iniziato dall'aeroporto di Bresso, vicino a Milano, mezz'ora prima.